Il treno regionale 26705 del 117 e 19 proveniente da Verona Porta Nuova e diretto a Venezia Santa Lucia arriverà a Arminario 6 invece è Arminario 5. Il treno regionale 26705 del 117 e 24 per legge è in partenza dal binario 2. Vedo una panosca, Ferrara, Bologna centrale, Brigny, Pizarro, Cancuna, Pescara, Termini, Foggia, Barletta, Bari centrale, Brigny. Grazie a tutti. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti